benvenuto adesso ci racconti come hai sfatato il mito del con questo non ci campi una cosa impegnativa, esatto io sono felicissima di essere qui e stasera visto che ho messo la fine vi racconterò una storia una storia che tutte le volte che la riguardo mi domando com'è potuto accadere davvero, se è stato un sogno oppure è successo davvero ma è una storia vera, è una storia di sogni di pregiudizi, di mancanza di coraggio e come va a finire lo scopriamo alla fine perché non voglio spoilerare e allora Valentina Rai praticamente è una serie di Netflix esatto, dieci minuti non bastano troppo poco ma ho fatto c'era Beautiful in dieci minuti ok ci provo anch'io vai grazie allora io non non so se voi ci credete ancora nei vostri sogni o se ce li avete ancora io avevo dei sogni una volta solo che a un certo punto mi dissero che erano dei sogni un po' ingenui e un po' infantili e quindi a un certo punto li abbandonai questi sono i primi grandi pregiudizi chi è che decide se è infantile o ingenuo un sogno però fu così e cos'erano questi sogni così ingenui e così infantili? chissà se anche voi vi riconoscete io quando ero piccola volevo regalare sogni all'umanità con le mie storie volevo fare tutti felici io adesso so che in chat mi arriva Piero dritto come un fuso mi dice che non sono la Nutella e non posso fare tutti felici ma ero una bambina ambiziosa pensavo di avere le carte in regola scrivevo tantissime storie le disegnavo facevo i fumetti ero felice e avevo più autostima a 8 anni che a 38 e quindi ero convinta che ce la potevo fare perché avevo tanta fantasia ma sapete la fantasia non è mica per tutti e non vale sempre finché sei piccola va bene ma arriva un momento in cui ah tu hai tanta fantasia? eh sì sì molta fantasia ah quindi sei sempre sulle nuvole no no aspetta cosa sei un po' sbampita no 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 arrivo in ritardo ma sono sbampita però sono molto sensibile ah una ragazza sensibile quindi ti metti sempre nei panni degli altri sì 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 giustifichi tutti beh aspetta ma tu lo sai che le persone sensibili a questo mondo vengono schiacciate tu dove pensi di andare così? e inizi un po' ti viene un po' di ansia inizi a preoccuparti dici va bene poi arriva la frase clou ah poi ho visto che scrivi bello sì sì disegno anche a belli li ho visti i tuoi disegni sì però ricordati che sono passatempi eh eh con quello guarda che mica ci campi dove vuoi andare? devi diventare grande fare cose serie ecco la parola serietà ok la parola serietà mi ha perseguitato per gran parte della mia vita mi dicevano sorridi troppo sei troppo allega non sei seria le persone serie non sono affidabili oh sorriso uguale inaffidabilità non lo so c'è stato un momento in cui ho iniziato a sentirmi sbagliata e se voi mi chiedeste chi erano queste persone io sapete che non ve lo so dire non ho le facce sicuramente non erano i miei genitori loro erano più matti di me loro dicevano fai l'artistico che sei felice eh sì loro mi dicevano così ma la televisione sentivi disoccupazione giovanile prendevi il libro di non me lo dimenticherò mai terza media di orientamento quando scegliete la scuola abbandonate per favore le vostre ambizioni che avevate da piccoli perché molto probabilmente sono su sogni infantili che non vi daranno nessun futuro libro di orientamento di terza media come stroncare appunto i sogni delle persone e però allora a un certo punto inizia a dirti ok io non voglio rimanere disoccupata era la mia paura più grande io avevo proprio paura di rimanere disoccupata senza lavoro o di finire sotto il ponte e allora ho detto allora come posso fare a non rimanere disoccupata devi scegliere un lavoro serio un lavoro che ti permetta di mangiare di vivere un lavoro dignitoso niente arte e gli artisti guarda che sono tutti morti di fame e allora a furia di sentire queste voci questi messaggi nella testa dici ok va bene facciamo che allora scelgo una università seria e ho scelto l'università che dava più possibilità in assoluto di trovare lavoro almeno all'epoca ok d'accordo indovinate cosa ho scelto a me che piaceva disegnare scelsi legge scelsi legge cinque anni feci tutti i compiti gli esami giusti mi laureai con 105 feci anche una scuola di specializzazione non non contenta feci due pratiche e quella dell'avvocato e quella del notario quella dell'avvocato e anche quella del notario perché l'avvocato partita IVA all'epoca la partita IVA veniva vista come il male io mi ricordo i discorsi anche a volte con degli amici no no ma sei matta partita IVA brutto mondo l'insicurezza no no non si vive con la partita IVA bisogna avere il posto fisso il posto da dipendente e così andai a lavorare dai notai avevo il mio bel posto fisso scrivevo atti tutto il giorno di diritto però avevo il mio stipendio a fine mese e gli iniziarono gli attacchi di panico questo non l'ho mai detto però credo che sia importante iniziarono gli attacchi di panico e io pensavo che fosse lo stress perché lavoravo troppo lavoravo veramente tanto volevo far vedere che ero brava e che ce la potevo fare e e e una vocina dentro di me mi diceva ma secondo me non sei molto felice io dicevo no con queste sciocchezze io sono felice ho il lavoro che volevo sono arrivata finalmente in uffici prestigiosi ho il mio stipendio va bene così adesso vado anche a convivere quindi basta con queste sciocchezze giovani e e andai a convivere e comprai il primo divano il mio primo divano l'abbiamo comprato io e Stefano divano viola con i cuscini vede pistacchio è quello lì perché vabbè facevamo dei lavori un po' noiosi ma la creatività e i colori ci piacevano e io mi ricordo che divano dell'Ikea quando l'abbiamo comprato ho detto mamma mia quanto ho speso però va bene sai cosa ti dico tanto io a fine mese ho lo stipendio quindi non ti preoccupare vale fine mese lo stipendio che cosa può andare male cosa può succedere i lavori da un notario i notari non falliscono mai Stefano studio importante di geometri cosa può succedere arrivò l'Alleman Brothers noi abbiamo beccato la scia in realtà perché successe prima ma arrivò e noi da un giorno con l'altro disoccupati tutti e due Stefano faceva le case era un geometra a casa io vendevo le case facevo gli altri a casa tre anni di disoccupazione tre anni dove io mi ricordo mandavo CV come se non ci fosse domani ma tantissimi e non ne andava bene neanche uno avrei bisogno della ZAN tedeschi per farglieli vedere per capire cosa non andava dovevo conoscerla prima però era un formato europeo quindi già solo quello ci faceva capire che qualcosa non funzionava e una frase che mi dava i nervi quando presentavo questi CV tutti mi dicevano che percorso che ha fatto che brava che CV e io dicevo sì bello il CV ma non funziona quindi sa cosa me ne frega che mi dica che è bello il CV e una mattina una mattina me la ricorderò sempre era luglio c'era questo cielo azzurro meraviglioso nella mia città c'era questa rietta che scendeva dalla Maddalena alla montagna di casa io andavo a fare questo colloquio e decisi che quel giorno era l'ultimo colloquio per un lavoro serio che facevo nella mia vita 100 euro al mese 8 ore di lavoro dal lunedì al sabato allora io non mi ricordo le facce di chi mi diceva che non ci non andava bene che avevo fantasia ed ero sensibile e gentile però mi ricordo la faccia di quell'avvocata io quel giorno tornai a casa da Stefano e gli dissi sai cosa ti dico disoccupati per disoccupati facciamo qualcosa che ci piaccia qualcosa che ci renda felice io ero veramente stufa avevo fatto tutto giusto avevo fatto quello che mi avevano detto di fare avevo scelto le scuole giuste avevo fatto l'università giusta seria mi ero comportata bene mi ero fatto un mazzo quadrato ed ero disoccupata senza un futuro ho detto basta sono stufa almeno facciamo qualcosa che ci rende felice saremo poveri senza futuro ma felici e così Stefano Stefano decise di fare il filmmaker partì per l'Indocina a fare documentari con questo documentarista che gli insegnò il mestiere e io decisi di tornare alle mie prime passioni 32 anni mi iscrissi a un corso finanziato da comunità europea per la promozione dei beni culturali con le nuove tecnologie ero una delle più vecchie erano tutti 24 anni e ne avevo 32 solo che mi ero resa conto che ero salita forse sulla montagna sbagliata e forse dovevo scendere da quella montagna e così mi sono incamminata e ho iniziato a scendere ho fatto questo corso e sapete cosa è successo? lo sapete? è andato tutto bene cioè le cose funzionavano andavano ho conosciuto una persona meravigliosa come Gigi Tagliapietre e tutta la sua famiglia che mi ha insegnato un mestiere ho conosciuto Alessandra Farabegoli Miriam Bertoli Rocco Mafia Sergio Cago Roberta Milano che mi hanno iniziato a raccontare di questa comunicazione questa comunicazione che aiutava le persone che le rendeva felici e io mi ricordo sempre erano venuti a Sirmione per questo progetto c'era tutto lo status del BTO e io ho detto ah è mio sono io io posso far felice le persone ce le ho le parole ce le ho le immagini e mi ricordo Alessandra aveva detto questa frase scrivimi qualcosa che ho voglia di leggere e ho detto sì io voglio scrivere qualcosa alle persone che abbiano voglia di leggere voglio fare questo e Roberta Milano mi ha detto mi ha raccontato Facebook e mi ha fatto vedere che lo potevo usare non solo per cazzeggiare ma per raccontare le aziende e le destinazioni e allora ho ricominciato a scrivere non avevo più paura di scrivere con il mio stile quello stile che dicevano che era strano unico d'era sempre Raimondi cosa vuol dire che le rose abbracciano le colonne le cose abbracciano le colonne le rose decorano le colonne lei ha mai visto delle rose che abbracciano le colonne io nella mia ingenuità all'epoca dissi sì e mi dissero che ero strana poi è arrivata la carrada ma liberato anche da quel peso e quindi iniziai a scrivere iniziai a realizzare post che la gente leggeva e che piacevano quella mia sensibilità empatia tanto vituperate servivano per coccolare le community e la fantasia della creatività mi aiutavano a risolvere i problemi a trovare nuove idee fare nuovi progetti e io finalmente ero felice e stavo realizzando quello che volevo e mi sembrava un miracolo poi conobbi un'altra grande famiglia un'altra grande grandissima famiglia che è la cooperativa DOC con Ipernova DOC e lì mi aiutarono nel mondo della partita IVA perché io ero ebbi anche la partita IVA ma facevo dei gran casini perché ecco io la burocrazia infatti non so perché ho fatto legge io la burocrazia due mondi paralleli che non si incontreranno mai e quindi sono uscita dalla partita IVA avrei voluto incontrare il freelance camp prima vi dico la verità avrei avuto molti molti più aiuti e suggerimenti comunque sono uscita dalla partita IVA sono entrata in cooperativa e lì non ho avuto solo le tutele e degli uffici che mi aiutavano appunto con i conti con i contratti con i bandi ma incontrai persone che partecipavano e mi davano una mano a questi progetti che da piccoli diventavano sempre più grandi a me non sembrava vero tipo il progetto scuola digitale siamo partiti in pochi adesso è grande ci sono anche tanti ragazzi giovani che ci lavorano e quindi ho trovato dei soci in cooperativa che mi danno una mano e non sono dei nemici non è qualcuno che ti può fare ombra sono persone che corrono insieme a te verso un traguardo il meraviglioso mondo veramente della cooperazione e della collaborazione e poi l'altra cosa bella appunto la cooperativa sono i valori il fatto di credere in grande c'è Demetrio Gigi Piero che mi dicono sempre a cavolo pensiamo in grande osiamo in grande io mi sono sentita nel posto giusto nel posto per me e allora ho recuperato i miei sogni e mi piacerebbe dirvi a voi oggi che è tutta colpa di quella maledetta Lehman Brothers della crisi oggi magari del covid ma la verità è che un po' come Caterine di Cime Tempestose questa frase che gli dice Nanni guarda che chi tradisce il suo cuore si uccide con le sue mani e io rinunciando per un certo periodo alle passioni mi sono uccisa con le mie mani però sono anche tornata indietro e la cosa incredibile ve lo dico davvero è pazzesco quando tu trovi la tua strada qualcosa che ti rende felice anche se pensi di essere stanca e non avere più energie io nel momento in cui dovevo cambiare strada ho detto ma come farò a cambiare strada con tutta la fatica che ho fatto per arrivare qui in cima dove la trovo la forza per scende da ste cazzo di montagna di legge che ho fatto e l'ho trovata è apparsa e non so neanche come è apparsa sono tornata giù ho scalato una nuova montagna è la cosa più bella che non l'ho scalata da sola ma la sto scalando accompagnata da persone che ti danno sempre una mano e quindi oggi vi dico ragazzi se c'è qualcosa veramente che sognate quello che le vostre passioni voi stessi teneteveli stretti tirateli fuori l'energia poi arriva e oggi io finalmente posso anche togliermi un sassolino della scarpa e dire a tutte quelle persone che mi dicevano che fantasia empatia gentilezza creatività sogni scrittura parole immagini non ci campi oggi li posso dire sapete cosa vi dico io ci campo con la mia fantasia la mia creatività e spero che lo possiate fare anche voi e dirvelo anche voi grazie Valentina davvero sì sentivo gli applausi dalla chat fino qua insomma quindi Valentina complimenti davvero una una storia anche molto ben raccontata se posso dire insomma credo di avere essere d'accordo ben raccontata che a un certo punto io sono passata facendo la parte della fata madrina che no ma è vero io io veramente ragazzi non vi ringrazierò mai abbastanza io posso prendermi questi due secondi per ringraziare persone come tal Alessandra come Gianluca Miriam Mafia ma veramente tante persone che continuate a condividere tutto quello che avete imparato e permettete anche a persone come me di farlo un po' proprio a digital update scusate ma veramente lì mezz'ora di applausi quello che non si impara a digital update e ci permettete veramente di trovare la nostra strada e di avere gli strumenti per costruirla quindi grazie di cuore sono io che ringrazio voi oggi davvero grazie grazie davvero grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti